bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi voglio fare un video che riguarda una missione del nuovo pass stagionale quello di livello 7 ragazzi una missione che mi ha fatto notare un mio amico il nostro giuppi che stava giocando prima con noi e allora ragazzi ho trovato questo video interessantissimo su internet che vi mostra ragazzi dove sono tutti gli gnomi per completare la missione andiamo subito a vederlo ragazzi così di prepotenza il primo gnomo è a tomato town andiamo a vedere un pochettino dove si trova vedete vedete bisogna scendere ragazzi intorno al pomodoro gigante diciamo la struttura principale di tomato town scendere sotto se non ricordo male ed entrare nei servizi del chiamiamolo fast food ecco andiamo a vedere andiamo a vedere guardalo lì nascosto dietro la sedia guardalo lì dietro la sedia prot mi raccomando ragazzi cliccate il tasto s siete dal computer il tasto x se state giocando invece da console e prendete il primo gnomo il secondo gnomo ragazzi invece è ad approdo avventurato adesso vi fa vedere guardate guardate bene la posizione ragazzi rimane praticamente sulla casa di destra rispetto al caseggiato il casolare centrale quello per intenderci dove c'è l'albero rosa che esce guardate qua sulla casa di destra apriamo la porta non dobbiamo salire le scale ma stiamo di fianco di nuovo nel bagno ragazzi dietro la vasca da bagno tac andiamo a prendere il secondo gnomo ce ne sono ancora 5 da trovare ragazzi ancora 5 lui intanto va a spaccare un pochettino vediamo subito dove è il terzo se è ancora ad acri no non è ad acri ragazzi questo invece rimane vicino a shifty shark che sarebbero il condotti confusi dobbiamo passare dai non mi ricordavo in inglese come si dice condotti confusi scendiamo giù atterriamo giù ragazzi passiamo la parte sotto di condotti diciamo dove c'è la miniera per intenderci guardate che storia guardate che storia spacchiamo l'angolo che c'è questo è difficile da trovare ragazzi questo è molto difficile spacchiamo l'angolo prot terzo gnomo per noi lo andiamo a prendere di prepotenza e abbiamo già completato tre settimi della missione gnomo numero 4 ragazzi si va in fondo si va in fondo verso il crocevia del charpame ragazzi rimane abbastanza in centro andiamo a vedere un pochettino dove si trova in modo da capirlo bene assieme ed andare via via veloci per poi passare al quinto si atterra si atterra si atterra si atterra dobbiamo atterrare praticamente nel caseggiato principale quello grosso il fabbricone in poche parole andiamo a spaccare il primo vetro quello più a sinistra quello sul lato più a ovest del casolare proseguiamo proseguiamo spacchiamo il divano intanto si scrive gente grazie 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 guardatelo già si vede già si vede ragazzi via il letto via il bancale e lo gnomo rimane sempre l'imboscato di prepotenza ragazzi via anche il quinto se non ricordo male o quarto gnomo noi forse il quinto è fatto forza avanti qua siamo invece alle montagnole maledette ragazzi sempre vicino al crocevia del charpame quindi possiamo eventualmente prenderne uno in fianco all'altro non c'è problema andiamo a spaccare ragazzi la parte sotto della chiesa più grossa quella che sta di fronte al cimitero e qua invece è semplicissimo lo gnomo lo possiamo trovare senza nessuna difficoltà apparente avanti ancora avanti ancora senza stop senza stop qua siamo ragazzi invece al parco pacifico siamo praticamente nella parte più a est più a ovest di parco pacifico nella casa quella a forma di L avete visto poco fa infatti lo zoom sulla mappa questa qua rosa rossa con i mattoni a vista in poche parole andiamo dentro andiamo dentro da sotto ragazzi dalla parte di destra e si trova subito subito nascosto dietro al frigorifero ovviamente qua c'è una parete lui l'ha già buttata giù andiamo a prenderla così senza paura avanti ancora dovrebbe essere l'ultimo gnomo raga se non mi non mi sto sbagliando siamo invece ragazzi alla la fabbrica della latrina dove fanno i cessi in poche parole avanti così stiamo nella parte bassa credo che sia là dentro ragazzi nel nello sterilizzatore di cessi guardatelo qua guardatelo qua vediamo un po dove si trova è nascosto proprio dietro e l'ha messo lì a tirare lo sciacuone quando ci aveva bisogno ecco questo dovrebbe essere ragazzi l'ultimo gnomo beh ragazzi direi che questo è veramente tutto io spero che vi abbia aiutato il video ringrazio bullseye per avere pubblicato questo video velocissimo che dire un bel like se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto ciao 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 ciao